Uno degli aspetti più affascinanti della natura è la sua capacità di autorigenerarsi, come nel caso di un osso che si rinsalda dopo una frattura o di un ramo che si ricostituisce dopo un innesto. Proprio dall'osservazione della natura e dal tentativo di imitarla nasce l'idea alla base del progetto SCICRIT, che sta per self-healing concrete o calcestruzzo autoriparante. Il nostro obiettivo è appunto quello di creare dei materiali artificiali a base cementizia che possiedano la stessa capacità della natura di autorigenerarsi, ossia di invertire di fatto il corso dei possibili processi di degrado senza l'ausilio di un intervento esterno. Il team di SCICRIT ha già da tempo iniziato a lavorare su questo tema vincente, ma molti sono ancora in odi da sciogliere da un punto di vista scientifico e tecnologico prima che una soluzione definitiva possa realmente essere adottata. Il sostegno del Politecnico di Torino e della Fondazione CRT è quello che ci consente di portare avanti lo studio su questi materiali e di confrontarci in modo competitivo con gli altri gruppi internazionali che lavorano sullo stesso tema. La via per l'innovazione e per l'ottimizzazione delle risorse attraverso il prolungamento della vita utile delle strutture passa anche da iniziative come questa. Mi chiamo Paola Antonaci e sono ricercatrice nel Dipartimento di Ingegneria Strutturale e di Legge o Tecnica del Politecnico di Torino.